Rimini Wellness, la fiera del fitness più importante d'Italia. Siamo venuti anche noi per incontrarvi, fare una foto, scambiare quattro chiacchiere o semplicemente ricevere un po' del vostro caloroso affetto. Ma dopo tutti questi anni, poteva mancare un po' di sana ignoranza? Guardate il video fino alla fine perché ci sarà una chicca incredibile. Ragazzi, io far iniziare il video così. Ragazzi, guardate qua, abbiamo prosciutto di Parma e foccherone. Questa si chiama viagra, c'è tipo pecorino, unghie e quant'altro. Abbiamo un cane che non è più coglioni. Abbiamo un altro crudo. Abbiamo il diavolato con il salame piccante. Spettacolo, ragazzi. Spettacolo. Potremmo cominciare meglio. Meglio di così, ci siamo. Già, lo stiamo parlando. Allora ragazzi, sono passati cinque anni dalla nostra prima fiera, forse qualche anno in più. Pensavamo di fare i soldi e invece stiamo andando ragazzi alla fiera in bici. Con delle bici rubate. Quindi diciamo che credete sempre nei vostri sogni perché prima o poi si avvederanno. E niente, questa fiera direi che parte così. Cominciamo. Siamo entrati. La prima cosa che faremo sarà andare a vedere gli stand peggiori della fiera. Vedremo un po'. Faremo una recensione degli stand peggiori della fiera. Questa è una settimana che ci stiamo aspettando. Porca miseria, vai, guardi. Vai. Ma questo ci ha chiesto una foto. Ma quanto ci date questa foto? Porca miseria. Che sport fai? Ma ci porta il foglio. Ma ci porta il foglio, bastardo. Stiamo, dai. Vabbè, dovete fare una foto. Noi, devo fare una foto. Lo so. Ragazzi, guardi se c'è la nostra maglia. Ma porca. Un lavatotto. Oh, è spaccato. Cioè, è incredibile. No, era un'altra. Era un'altra. Ragazzi, ma qua. Cioè, non ci posso creare. Eh, questo sbacca. Ragazzi, come ti chiami? Come ti chiami? Thomas. Thomas, ragazzi. Thomas. Grande. E che quando riuscirete a far tatuare qualcuno con il nostro logo, fa soddisfazione. Cazzo. Ragazzi, ma io mi chiedo, no? Perché venire a Rimini Wellness ad ascoltarsi la musica? Cioè, non potete stare a casa? Lo so io, eh. C'è Gaggi che è in cerca di figa sempre. Ma è possibile, oh. Ma ci stai provando per caso? Ok, ok. Ci stai provando? Allora, tutto bene? Tutto bene, sì, sì. Eh, bravo, ci sta. Bravo. Però ti devi avvicinare un attimo. Così capisci proprio che... Vai, vai, spiega, spiega, eh. Vabbè, perché sono brutta e racca. Ma com'è brutta? Ma lui che bello è giusto. Eh, vai. Eh, se mi sto facendo una cilietta... Eh. Però così mi lo toghi, così. È figata. Allora, aspetta. È bomba, eh. È liscia, liscia. Però il bulbo... Prima di tutto, aspetta, vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Mezzo vuoto, dai. Allora ve ne andate. Perché? Perché noi lo vediamo mezzo pieno. Ok, mezzo pieno. Allora, abbiamo la qualità del prodotto, no? Il stinchetto è mio, ok? È liscia. Una vecchia di 50 anni doveva avere tutta una flaccia di pezza, se puoi spiegare. Si sta. Qua c'è la signora che sta facendo il massaggio. Oh, com'è? Rilassante? È bello? Bello, bello. Ma c'è anche l'EPI? No, no, quello non c'è, è vero. Eh, 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 eh. Stend dei massaggi, ma... Ragazzi, vate qua, questo qui è uno stand di massaggiatori, fisioterapisti, osteopati. Incredibile. Gente che massaggia tutti, vate qua. Guardate qua, Domenico Menditto, alle prese davvero Gorilla. Vai. C'ho le mani sudate, porca miseria. C'ho le mani sudate di sciola di brucio. Vai. Eh, ma c'ho le mani sudate. Ah, non ci sono scuse. C'è un Gorilla no, il Gorilla non c'ho le mani sudate. Ma che cazzo dici? Ragazzi, qua c'è una maratona all'interno del Rimini Wellness, ragazzi. Adesso l'esperimento è infilarsi con loro in maniera... Far finta di gareggiare. Vediamo con loro. Vediamo. Vai, tre. Due. Uno, vai, vai, vai. Vai, raga. Si è infilato. Ma si buttano fuori. Ma si buttano fuori. Vai, vai, vai. Ragazzi, qua si è messo gerando. Oh, com'è, ragazzi? Vai, non vogliamo. Oh, la vogliamo, la vogliamo. Vai, vai, c'è l'altro qua. Oh, andiamo a motivare i ragazzi, dai. Se no ci sbattono fuori, ragazzi. E come ogni volta nelle fiere, ci siamo intrufolati nella gara, ragazzi. È incredibile. Ma noi ci siamo pure correndo. Vai, vai. Riusciamo quelli là, riusciamo quelli là. Sto morrendo a parlare e correre, porca puttana. Vai, zio. Vai, non mollare, oh. Non mollare, non mollare, cazzo. Dai. Vai, vai, vai. Dai che ci siamo, dai. Dai, porca miseria. Siamo fermati a metà gara. Quei sono i ragazzi che corrono dentro la fiera. Al mio tre, facciamo l'uno. Vai, tre. Uno, due, tre. Oh, che l'hanno un po'. Che l'hanno un po', che l'hanno un po'. Frendiari alle ascelle, dai. Ti ha più forte però a casa, non così piano, figa. Cioè, oh, ma che cazzo. Ragazzi, qui abbiamo invece un fitness a piedi nudi, che c'è una terassina, eh. Cos'è, per imparare a saltare bene se non l'altro. Eh, cioè, non capisco. Moletto, moletto. Ok. Secondo me funziona. Oh, mi piace. Ti la foto vogliono fare, ma porca miseria. Come ti chiami, oh? Nico. Bravo, bravo, bravo. Oggi vi portiamo, cioè siamo famosi. Incredibile. Pensate un po', se queste foto fossero pagamento. Ti hanno venuti in bici, ma siamo famosi. Incredibile. Mi bastava una fiera, un giorno, un anno, una coperta. Vai, vai. Quindi devo chiedere un favore a volo, se potete salutare un amico. Certo, cosa si chiama? Alex. Vai. Allora, io, c'è tutto mio, perché siamo l'idraulico, quindi probabilmente te lo non berai tanto. Però ti devi anche allenare, vi raccomando. È sempre più importante, eh. Eh. Quindi non è che mi puoi solo scaldare. Esatto. Quindi, oh, allora, allenati, porca miseria. Corri in là. Eh, allora. Bella. Eh, la prima ragazza che c'è che stanno a voto. Incredibile, ragazzi. E se da cui io ho tutto. Senti, numeri uno, ragazzi. Numeri uno. Mi ho cominciato a far palestra con voi, due volte vedi in quarantena, delle impressioni, mi sono luce. Meno male, ragazzi. Oddio, ma quale è Thomas Hill, porca miseria. Oddio, ma c'è chi? Quelli che ha pagato. Bastardi. Allora, com'era? Ti ha posto? Sono sudato. Eh. Mi sento appiccicoso e voglio muovire. Ma che attorno è spartato, porca miseria. Porca miseria, mi stanno. Gatalo. Gatalo. Si passano, che schifo. Oh, sono triatleta. Guarda, un triatleta. Oh, dagli un bacio in bocca. Dai un bacio in bocca. Non so pensato. Oh, no. No, mi sono so preoccupato. Eh, cazzo. Oh, ma cosa ci fai te con loro? Questo ti ci tocche, no? Allora. Allora, ti trago un bacio per i bambini. Eh, sbagli. Sbagli. Noi siamo calmi, ragazzi. Non ci agitiamo, va bene? Oh, trailaci un po' da qualche parte, porca. Venite con me. Dai, dai, dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Sto cercando una roba da trainare. Eh, oh, traina lui. Aspetta. Allora, c'è il nostro amico che traina i carri armati. Se vuoi puoi trainare un carro armato. Dai, traina me. Trailano, cazzo. Bisogna capire qual è l'abbiglio, però. E' importante, cazzo, no? Ragazzi, guardate che bestie disumane che ci sono qua. Guarda, ma io mi chiedo una cosa, no? Ma quando c'è gente come voi, così grossa, uno come noi, che cazzo sali da fare? Eh, in inglese, in inglese, in inglese, in inglese. If... Eh, tu sei in inglese, sai. Se c'è gente grossa come loro, nel mondo, noi, bianchi, che cazzo ce l'alleniamo a fare? Perché ce l'alleniamo? Perché troppo grossi? Perché il tuo genetico è più e più, 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 eh? Complimenta. Ragazzi. Ragazzi, porca. Com'è sta piena? Possiamo fare una foto. Vai, no, basta, basta. Eh, cazzo, no, vai, vai, sparring, vai, picchiadio. Vai, vai, vai. Vai, picchio, che se ne frega. Vai, vai, vai. Vai, vai. Questo, questo. Vai. No, no, vai, adesso ti tira un pugno in testa. Vai, vai, vai. Vai, forte, cazzo. Vai. Ma fa male, eh. Allora, qua, facendo altre foto su altre foto. Vai. Allora, adesso qua abbiamo passato ore e ore a fare foto. Cioè, la gente che ci guarda adesso si potrebbe annoiare. Lo possiamo fare per intrattenere, insomma, il nostro pubblico. Facciamo una rissa. Facciamo una rissa, così. Facciamo una mega orgia, vai. Facciamo una mega orgia. Forza incredibile del mini wallet. Se no, tutte le persone che ci trovano la foto e tocchiamo il culo. Vediamo che faccia fanno. È curioso, vediamo. Mentre questi qua fanno le foto, abbiamo recuperato anche una bella Red Bull che ci ha regalato lui gentilmente. Guardate qua. Baccialo in bocca, dai. Dagli un bacio in bocca. Dai. Perché i Gim Pro si baciano in bocca, bro. I Gim Pro si baciano in bocca. Vai, baciatevi in bocca, dai. Dai, baciatevi in bocca. No, scala. Allora, non siete Gim Pro, dai. Oh, zio. Hai finito, no, no. Vai, ragazzi. Oh, facci un urlo, qualcosa. Fatevi allenare. Qua c'è il team degli YouTuber con, ragazzi, si chiama Thomasin, Jackie, Insan Screamer. Abbiamo formato un centro. E di là c'è il team di TikToker, guardate, ragazzi. E noi, team YouTuber, che facciamo le foto, ragazzi. Ma, cioè, cos'è il mio YouTube o TikTok, porca miseria? Secondo me dal vivo è in tutta un'altra roba. Eh, in tutta un'altra roba. Eh, bravo, ragazzi, bravo. Ragazzi, ascappati dalla fiera e si è venuti qua. Perché alla fine. La gente grossa, sempre grossa. La gente grossa c'è. Tra l'altro, ormai lui è un YouTuber, ormai. E ci proviamo, eh. Ci proviamo, ragazzi. Porca miseria. C'è a vedere qua, ragazzi, che sono i calistenici qua, alla fiera. Non so solo... Guardate qua. Sergio. Allora, com'è? Sta a posto? Si allena, quasi spinge. Porca miseria. Stiamo riscaldando, eh. Grosso sei grosso. Perparati i pegamenti dopo. Ah, mi dico, va bene. C'è, stai. Vieni a che cazzo di braccia che hai. Porca miseria, oh. Mariani, qua. Ragazzi. Allora. Scana di Stringdorilla. Ma chi vince? Te o Chiozzi alla gara, qua? C'è anche Sergio. C'è, ce n'è di gente. C'è anche tu. Porca miseria. No, io faccio le qualificazioni. Eh, vediamo, vediamo qua. Ma qua c'è il coach qua, ragazzi. Porca miseria. C'è anche Alex, tutto valutato. C'è Samu, c'è Rocky, c'è Grigor. Sarà una gara allucinante. Il coach qua è da battaglia, ragazzi. Guarda, scherziamo qua. Guarda che bell'evento che hai organizzato. Guardate qua. È un po'. Dopo pure putt. Guardate qua quanta gente che c'è. Guardate che spettacolo, ragazzi. Guardate qua. Quanto sei, oh? 16. 16? E devo fare... Quanto dobbiamo fare? 30? 32. 32. Dai, dai. Ladder, ragazzi. Ladder. Allora, ragazzi, ma si può venire a Rimini Wellness senza vedere il maestro? Maestro? Ma si può vedere il maestro? Ragazzi, cioè, cosa vuoi dire, ragazzi? Ragazzi, buongiorno. Allora, il video può finire qua, ragazzi. Ciao. Ciao. fu gruppo Be автомatitario No, no, no. No, 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 no. I nipro Buongiorno No, 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 no. No, no, no né, no, no, no. No, no, no. Grazie a tutti.